Salve a tutti e ragazzi, benvenuti in questo nuovissimo video Oggi ci troviamo sul Mercenary Kings Questo qui è anche un video di introduzione Un video di introduzione del canale Che è un nuovo canale che aprirà Quindi, niente, il canale si chiama Soulplayer Spero vi piaccia Io non sono solo ma ci sarà anche un altro utente Non so che dire Comunque, oggi stiamo sul Mercenary Kings Un gioco uscito da poco su Steam Di cosa tratteremo nel canale? Diciamo un po' di tutto Formula 1, The Sims Due giochi tipo questi Retro Game Molte cose Poi, vabbè, tratteremo anche Joking Cop Che io e il mio amico faremo E' un meta flag Non si spara E' la prima volta Un po' di tutto sì come and via la mente Grazie a tutti. Di cosa tratteremo? Di questo vero? Beh, tutti i giorni, tutti i giorni, da più generi, diciamo, dei giochi, la platform, la platform RPG, poi la bella. Gli FPS non credo molto perché è un genio che non mi piace, lo vedremo, è anche FPS, però no, perché a me gli amico piace molto. Vedi un po'. Grazie. Grazie. Beh, questo qua è il primo video. Vi ho fatto il primo video. Spero vi piaccia, ora non so chi dire, è un gioco a caso, pertanto per sfondo perché, ecco, dovevo parlo un po' del canale. Allora, iniziamo dagli orari del video, il primo video, il primo video uscirà verso le 11 e il secondo video verso le 16. Diciamo che quello delle 11 è un video gioco tipo questo. Mentre alle 12, alle 16, ci sarà un video, un gioco che, diciamo, abbastanza conosciuto, tipo, faccio un esempio, MotoGP, oppure The Sims, vita dell'Università Italia. Quindi, diciamo, che inizierà però il mio video, c'era questa serie, quindi, lui, ok. Quindi è lui, diciamo, che inizia la serie un po' impegnativa, io più ora faccio questi, però inizierò questa serie su Final Fantasy, perché, non so, ok. Perché Final Fantasy dura molto e, diciamo, poi le zone, nonostante, piace quasi a tutti. Poi, 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 poi ci sarà anche, ci saranno anche dei video di Minecraft, però, praticamente, Minecraft, iniziamo un po', iniziamo con le basi, diciamo, mania. E, diciamo, più di questo. Sì, però, per chi ama, un po' lo heinire afốc enorme, tutti i pacchetti. Millemila pacchetti. Dopo, scatite, inizieremo anche la Foodbeast dove, poi, io, essendo anche uno che crea mobile. che ho un nuovo modo fatto dove cerco di mettere i modi che mai nessuno ha fatto per insegnare perché ho visto un modo davvero molto molto carino e che però non molti usano, un modo che possono sostituire anche il giusto affatto, il giusto affatto è questo tipo questo, sono molto carine, quindi fammi, fammi, fammi loro voce cosa dove vedete perché vero ho un modo molto molto bene, figa e anche fammi, ok comunque io non vi ho detto il titolo del gioco, il gioco si chiama Marchionary Kings, Marchionary Kings, Marchionary Kings, Marchionary Kings, il gioco ci do da poco su stimo, vabbè io non ci gioco per punto, allora, niente, la presentazione del canale e vi ho detto, facciamo davvero cose, facciamo giochi che non tutti fanno che vorremmo che voi conosceste perché sono davvero giochi molto divertenti e fortunatamente ormai c'è chi pensa solo a determinati giochi e non è che poi è tanto buono questo perché poi gli altri giochi non mi sono in grigione di genitavori a particolarità a particolarità poi un ragione di risultato cosa che è già stato fatto però lo sappiamo che è già stato fatto davanti di Google ho conosciuto ehm o ce l'ho o no o no che praticamente su Minecraft si è per trovare le persone dei scherzi e vorrei fare anche questa cosa ehm per divertimento ehm buon divertimento ehm no no andiamo qui andiamo qui andiamo qui andiamo qui andiamo qui andiamo qui dove no ok come vedete cerchiamo anche qualcuno che faccia copertina ma ah comunque Comunque, questo era il video di presentazione di 2Playerita, oggi alle 4 sarà il video del mio amico con minecraft, singolo, normale, spero che vi sia piaciuto questa sera la presentazione, e niente, ciao a tutti e ci vediamo oggi alle 4 per il mio video di video.